il tuo consulente agrometro e ti dà il benvenuto su angolo notizie il tempo previsto fino all'unico 18 settembre ottime notizie perché il caldo e la siccità che ci hanno affitto per 4 5 mesi consecutive invece si tireranno un po dalla penisola e quindi goderemo di un periodo abbastanza gioioso diciamo non solo per noi stessi ma anche soprattutto per l'agricoltura non dimentichiamo bene il caldo le temperature massime lunedì subiranno il valore minimo ne tanto che toccheremo valori massimi intorno a 22 25 gradi su quasi tutta l'italia il valore più basso diciamo degli ultimi 4 5 mesi poi nel corso della settimana fino a 18 e temperature in lieve rialzo ma si manterranno ancora quasi un qual di sotto dei 30 gradi per quanto riguarda i fenomeni lunedì sarà un'altra giornata molto piovosa su tutta l'italia tranne la regione di nord ovest e contemporane anche forti su friule venezia giulia lazio campania e sardegna poi probabile un'altra fase piovosa tra venerdì sabato e domenica di questa settimana bene termino qui un caro saluto da maria giuliacci dal pulsante sottostante può visualizzare le previsioni di casa tua